Terremoto in casa Olimpia agnonese. Nella giornata di ieri il presidente Mario Russo ha annunciato le dimissioni dell'intero direttivo. In una lettera indirizzata formalmente al sindaco e al delegato allo sport del comune di Agnone, l'ormai dimissionario presidente ha specificato le motivazioni che hanno portato ad abbandonare tutti gli incarichi societari. In primis Russo ha fatto riferimento agli enormi sacrifici in termini di impegno e di lavoro messi in atto per garantire la continuità del calcio nel comune Alto Molisano, raggiungendo ottimi risultati non solo con la prima squadra nel massimo campionato regionale, ma anche con il settore giovanile, ottenendo il riconoscimento di scuola calcio di secondo livello. Russo non ha voluto nascondere il dispiacere per il disinteresse della comunità, sottolineando come nella riunione di fine stagione siano state registrate soltanto sette presenze e soprattutto la mancanza dell'amministrazione comunale. In conclusione Russo ha dichiarato che la contabilità della società sarà messa a disposizione di chiunque voglia prenderne visione, specificando che tutti gli impegni presi per la stagione 2022-2023 con tecnici, calciatori e staff sono stati regolarmente corrisposti. Notizie da Sesto Campano. La squadra bianco-rossa del patron Girolamo Silvestri si sta organizzando per disputare come ogni anno un campionato tranquillo e di tutto rispetto. Un ambiente sano abituato a fare calcio da anni, ricordiamo che dall'autonomia del Comitato regionale Molise 1992 il Sesto Campano ha sempre disputato il massimo torneo regionale a testimonianza del fatto che organizzazione e competenza calcistica sono di casa. Anche per la nuova stagione si ripartirà dal gruppo storico Ivari di Gregorio Cambio, Iannetta, Scasserra e Capitan Conte, giocatori che da anni sono legati al sudalizio bianco-rosso. Rumors parlano invece di un possibile addio di Marco Di Baia, anche lui un fedelissimo di mister Cerchino. Per il resto si punterà su tantissimi profili under di qualità che avranno l'occasione di mettersi in mostra come già avvenuto per Iannetta, poi approdato al Matesi in Serie D e Totaro, corteggiato da vari club in Serie D Campana. La neopromossa polisportiva Fortore, dopo l'ufficializzazione dell'esperto portiere Valerio Curci, ha puntellato la rossa con la riconferma del forte difensore Edoardo Colucci. Colucci ha alle spalle diverse stagioni nei campionati di eccellenza, tra cui Campobasso 19-19 e Roseto. L'anno scorso ha contribuito in modo rilevante alla vittoria del campionato di promozione da parte della squadra di San Bartolomeo in Galdo.